Un accordo tra l'amministrazione penitenziaria e l'acquedotto pugliese in qualche modo pensato e facilitato dall'ufficio del garante dei diritti del detenuto qua in Puglia. È molto semplice. Una fascia di detenuti che ha determinate caratteristiche può entrare in un'opportunità di lavoro lungo la rete dell'acquedotto pugliese, lavori di manutenzione, di messa in sicurezza, di pulizia, di bonifica. Un'esperienza lavorativa vera, che è quella che in qualche modo è prevista dall'articolo della nostra Costituzione che dice che la pena serve a offrire una chance di ripensamento e di reinserimento di chi ha infranto le regole. Non sono lavori forzati, che erano lavori non produttivi, servivano semplicemente a offrire un supplizio supplementare al detenuto. Non sono lavoretti, diciamo, come se il carcere fosse un asilo nido. Sono formazione e avviamento a un lavoro vero ed è un modo con il quale il detenuto, che è una persona che ha infranto le regole e ha tolto qualcosa alla società, in qualche maniera restituisce qualcosa alla società. È una tipica esperienza di giustizia riparativa.